Lina Ambrogimelle, Presidente del Comitato Donne e Futuro per Taranto Libera. Da un lato i pronunciamenti degli organismi giurisdizionali di giustizia europea che condannano un giorno sì e l'altro pure questa produzione, questo mostro chiamato Acciaieria d'Italia, dall'altro l'accanimento del governo e della politica nazionale e locale a tenerlo in piedi, ora con la favola della decarbonizzazione. Certo, è una cosa assurda, anche perché come ben sappiamo vengono spesi molti soldi pubblici per tenere in piedi degli impianti che sono ormai vecchi, decadenti e causano malattie e morte. Il problema secondo me parte dalla politica locale, perché penso sempre a Genova e a Trieste, altre parti d'Italia dove hanno risolto i problemi. Possiamo ricordare a Genova hanno chiuso l'unico alto forno che avevano per ragioni sanitarie e hanno aggiunto contestualmente a Taranto un nuovo alto forno che è il più grande d'Europa. Quindi perché questo succede? Perché a Taranto nessuno si oppone, perché a Taranto ci sono le porte spalancate per tutte le nefandezze del mondo. Eppure il sindaco racconta la favola delle due ordinanze. Favola perché parliamo di due ordinanze, io le definisco farlocche che hanno saputo soltanto fare il solletico e non colpire. Beh certo, io per quanto riguarda la prima ordinanza, quella che aveva ottenuto esito positivo al Tal di Lecce, che poi è passato al Consiglio di Stato, bisogna dire che all'epoca il Tal di Lecce integrò questa ordinanza con delle sue osservazioni perché fece una istruttoria, cosa che non ha fatto invece il Consiglio di Stato. Io all'epoca suggerì di integrare quell'ordinanza che chiaramente era carente se aveva bisogno di un'integrazione con queste osservazioni che avevano portato al successo il Tal di Lecce, ricordiamo che era ordinato alla chiusura dell'aria caldo e una volta chiusa l'aria caldo è chiaro che poi si inizia un nuovo percorso. Ma questo non è stato fatto, quindi è chiaro che come anche il precedente sindaco Stefano fece un'ordinanza quando io portai un incontro i nostri avvocati di Roma, l'avvocato Saccucci che stava operando presso la cedula, la Corte dei diritti dell'uomo e il sindaco Stefano subito disse ma io ho fatto quello che potevo fare, ho fatto l'ordinanza appunto, come per dire mi sono messa l'anima in pace. Quindi c'è anche la questione della popolazione, la popolazione di Taranto è indifferente, è abituata, è rassegnata, quindi mancano queste due componenti per avere successo a livello locale e quindi il sindaco, consiglieri comunali che dovrebbero mettere in testa una richiesta ben forte, decisa, e la popolazione dovrebbe mettersi in testa, ma anche la popolazione si dovrebbe svegliare.